Nonostante il freddo, anche quest'anno si è rinnovato il rito della Madonna a lungo, la tradizionale visita al santuario che si trova tra Termoli e San Giacomo nel martedì dopo Pasqua, un'usanza a cui i cittadini sono molto legati, tanto che conosciuta come la Pasquetta dei Termolesi. Nel santuario un tempo si svolgeva il pellegrinaggio per chiedere una grazia alla Vergine e pregare ai piedi della statua della Madonna della Vittoria. Il rito risale al 1500 quando la chiesetta e il convento dei frati cappuccini che sorgeva lì accanto, vennero rase al suolo dall'invasione turca. Le famiglie sopravvissute, in segno di ringraziamento alla Vergine, ricostruirono la chiesa e scelsero un giorno dell'anno, il martedì dell'Angelo appunto, per la devozione a Maria. Il tradizionale picnic sul prato oggi è davvero improponibile per il freddo, ma non mancano alcuni coraggiosi. Con questo tempo non rigiungeremo mai, alla Madonna a lunga neanche con la pioggia ci rinunciamo. Che cosa fate oggi? Niente, siamo qua tra poco, mangiamo, ci divertiamo, musica, giochiamo a palla, così, divertimento. Una tradizione che da anni si fa, noi anche con maltempo ci siamo sempre venuti, fin da quando eravamo piccolini, ci siamo sempre messi tra l'erba con tutti quanti ragazzi. Da tanto eravamo ragazzini e c'era una bellissima ricorrenza che era quella della scampagnata. Il lunedì di Pasqua per noi non era festa, era festa il martedì e quindi si veniva con gli amici, con le famiglie, prima quando eravamo più piccolini, poi con gli amici, con i compagni, insomma venivamo comunque a passare una giornata all'insegna del weekend, della giornata in campagna. Pochi affari anche per i venditori ambulanti, c'è però chi approfitta per la visita al santuario per comprare un panino. Si vendono oggi i panini? Un pochino perché fa freddo, quindi ho già nevicato pure qua un po'. Però arrossisce lo stesso? Certo, certo, sempre, sempre, noi dobbiamo stare sempre a lavorare, quindi... Qual è il panino più venduto? Il torcinello, il panino con il torcinello è il più venduto.